Ilari Blasi fa sul serio Bastian, prime presentazioni in famiglia. Ilari Blasi e Bastian Muller ancora in vacanza. Dopo la Thailandia e la fuga romantica a Parigi. La coppia si è concessa ora un weekend di gruppo sulla neve. Nella comitiva ci sono anche Silvia, sorella maggiore di Ilari, e il marito. Dunque, la Blasi fa sul serio con il nuovo amore e ha così deciso di presentarlo a due delle persone più importanti della sua vita. Qualche settimana fa Bastian, erede di una importante famiglia tedesca di costruttori. Ha conosciuto la piccola Isabel, la figlia che l'ha riavuto da Francesco Totti dopo Christiane Chanel.